eccomi qua ciao popolo allora no sto guardando perché io come al solito faccio i video ma non è che me li preparo prima mi metto a guardare controlla io prima faccio partire la registrazione poi controllo a ma l'audio c'è ma il coso c'è ok comunque allora oggi video sulle coramelle lo so che già il terzo praticamente va bene secondo uno era quello di risponde in dieci minuti però voi lo chiedete io ve lo faccio in particolare mi è stato chiesto di rimane un video abbastanza pratico per far vedere come lavoro io in uscita dalle pietre in realtà c'è poco da dire perché non è che c'è da da pure qui da sperare il terzo mistero di fatica come dico spesso è solamente quel minimo d'attenzione quel minimo di accortezza nell'utilizzo magari del cercare di utilizzare il materiale migliore lo strumento migliore per ottenere un risultato allora fondamentalmente intanto già vi sarete rotti le scatole le guarda allora oggi ce lo facciamo quasi tutto con quest'altra immagine alla un attimo solo che io cerco di allora intanto mi sposto sto faccione che da qua no questa andava bene dove sta vedere com'era la storia il bello dalla diretta bello un accidente allora mi sposto il faccione qui ci siamo sì più o meno penso che sarà abbastanza dritto aspettate che mi sto a sistemare le inquadrature ok diciamo che potrebbe andare allora qui ho sistemato e non mi dite che casino che ho dovuto fare un po delle mie coramelle diciamo le coramelle che utilizzo più spesso e se vede che mi piacciono le coramelle a strappo no e chiaramente la coramella a telaio vabbè questa basta appoggiarla poi sarà facile utilizzarla e aspettate perché tante colamelle perché esistono tanti tipi di tanti tipi di rasoio per cui ho portato un esempio di un rasoio molto molto pieno pesante con la costa molto importante questa è l'ultima ombra un 7 ottavi il filarmonica però un 7 ottavi diciamo maneggevole va mettiamola così vedo che sta sparando un po il bianco ce la teniamo così ma dai ce la teniamo così e il classico se no ve la faccio vedere in quest'altra inquadratura questo è il colombi il classico 6 ottavi solingen punta rotonda ammolatura furoro perché andiamo sul pratico innanzitutto esistono fondamentalmente due modi di scoramellare diciamo il ripassino anche se è banale facciamo il ripassino visto che avete chiesto di farla sul sul pratico la questione e già che parliamo dei due modi cominciamo a prendere la curamella classica quella che sicuramente tutti hanno in casa la classica coramella in cuoio vaccino ci siamo quindi una coramella in cuoio con uno spessore bello importante un un elasticità media anzi diciamo oppure meglio bassa questo è un tipo di coramella che una volta tesa per bene spancia molto molto poco quindi ha una sua bella consistenza allora diciamo che su questa coramella noi fondamentalmente possiamo scoramellare in due modi vediamo se riesco a farlo vedere per bene mi allontano un pochettino c'è il movimento quello classico ma non è tanto l'importanza se è dritto se a uscire mi fermo qui per farvelo vedere meglio la rotazione del del rasoio sulla coramella avviene cambiando l'impugnatura cioè usando pollice ed indice vado a mettere in un punto dove siete meglio eccolo qua pollice e indice ok c'è questo tipo di rotazione quindi diciamo che questo tipo di movimento in scoramellata aspettate cerco di inclinarla verso la webcam anche se sto scomodissimo quindi questa diciamo che è la è il movimento quello proprio classico movimento classico però che non riesce sempre bene perché c'è il rasoio che ci mette del suo quindi andiamo all'esempio opposto prendo il rasoio prendo ultima ombra guardate quanto è spesso è pesante tre volte scusate un 6 ottavi full ombra molato una molatura piena quindi che contribuisce ad aumentare ancora di più il peso se io provassi a fare una cosa del genere anche se tecnicamente è possibile è molto molto scomodo e il rasoio tende tende a scappare dalle mani perché non c'è la sveltezza del cambio sulla costa qui ancora peggio perché la lama è quadrangolare allora c'è la seconda impugnatura per poter scoramellare quindi si passa da questo si alza si gira in aria e si fa questo quindi c'è il movimento in questo caso abbasso la coramella è tutto di polso bisogna fare attenzione a non girare sul sul cuoio quindi alzo esco e rientro ma se vedete sto cambiando l'inclinazione del polso e non l'impugnatura ok quindi per lame più importanti per lame più pesanti non si gioca più con mi metto sempre nel punto migliore non si gioca più con col pollice con l'indice vedete che scappa sfugge non ci si va ma si mantiene la stessa impugnatura e si utilizza il polso ci siamo allora partiamo da questa esagerazione in questo caso viene per esempio molto in aiuto la coramella a telaio per cui non ci dobbiamo stare a preoccupare della tensione della coramella del peso del rasoio che è comunque un peso importante perché il cuoio è già stato teso in precedenza per cui anche qui ci siamo movimento di polso ad uscire l'importante che la rotazione io la faccio è molto distante dal cuoio ok anche qui invece con rasoio più snelli più maneggevoli più leggeri invece ricominciamo col giochino del pollice e dell'indice molto più molto più semplice ci siamo ok beh e torniamo alle coramelle rastratte allora mi è stato chiesto dice mi fai vedere la tua sequenza di coramelle in uscita dalle pietre e poi per la manutenzione ordinaria dobbiamo fare un attimino un passo indietro sulla teoria adesso ve la faccio vedere per carità dobbiamo fare un attimino di passo indietro perché perché ci dobbiamo ricordare a che cosa serve l'utilizzo della coramella la coramella abbiamo detto serve meccanicamente per riaddrizzare un filo e per riallineare le creste le quelle micro creste che benché piccolissime benché in quasi invisibili perché abbiamo lavorato benissimo sulla pietra però queste micro creste ci sono e non è detto che siano belle ordinate una dietro l'altra ce ne potrebbe essere una che spunta da una parte una che spunta dall'altra e via discorrendo per cui per esempio questo caso delle mie dita sono delle micro creste stese ma non allineate ok guardate quindi c'è bisogno glossolano via via fino alla pietra più fine e io qui faccio la stessa cosa con le coramelle per cui tra le mie coramelle vado a scegliere le più rigide parto dalle più rigide le più glossolane via via e salgo fino a prendere come ultima coramella quella più fine perché voi immaginate una cosa e ve la faccio vedere con la coramella a telaio e ve la metto qua al coramella a telaio lato tela ci siamo per quanto vuole essere teso questo materiale lo sentite è teso come una pelle di tamburo per quanto vuole essere teso questo materiale ha una sua superficie ondulata no? i nodi della tela, gli intrecci della tela è un po' sto accorgendo che la webcam è leggermente sfocata ma intanto si capisce lo stesso allora, l'appoggio un attimo quindi è un piano rigido sufficientemente rigido guardate proprio l'ho tirata forte ma comunque il materiale ha un ha un suo andamento ondulato il rasoio è così delicato che prenderà, copierà tranquillamente questo andamento ondulato quindi da qui già si capisce la prima cosa più liscia sarà l'ultima superficie che io utilizzerò più stese e soprattutto allineate saranno queste microcreste che mi sono rimaste sul filo quindi parto dal grossolano perché? a questo aggiungiamoci una cosa a me un minimo di grossolanità di adesso dico una bestemmia abrasività ma le coramelle non sono abrasive però cercate di capirmi nel discorso a me serve perché in uscita dalle pietre non solo ho il problema di riadrizzare delle creste che sono ripiegate su se stesse e riallinearle posso avere anche il problema della pulizia del filo mentre sto affilando ho creato dei trusoli di limatura d'acciaio che non si sono staccati bene al passaggio sulla pietra ma qualche cosa può essere rimasta attaccata sul filo ci siamo? per cui ho bisogno di qualche cosa che sgrattuggi un po' quel filo per pulirlo da eventuali trusoli limature filo ripiegato filo morto chiamatelo come volete che è rimasto ancora attaccato al vero filo a quello che mi serve per cui in uscita dalle pietre che sia un rasoio leggerino o che sia un rasoio più massiccio più importante io inizio sempre con il passaggio su tela ovviamente rasoi più leggeri più delicati più morbidi d'acciaio più flessibili la pressione sarà minore per lame più importanti mi posso permettere una maggior pressione ci siamo? quindi il principio il primo passaggio è su tela che sia a telaio come quella che vi ho fatto vedere o che sia una coramella a strappo questo per esempio è il lato tela della gammi di Pietro Mirto così le facciamo vedere le coramelle di tutti gli amici poi calcolate che io uso sempre ormai da anni uso solo coramelle artigianali per cui queste due che sono qui sotto è una in cavallo e una in cuoio di Robert Maleschi guardate come le strapazzo perché a me le coramelle lavorano stanno là per bellezza queste questa la finishing il cuoio performance sono di Pietro Mirto la telaio che avete visto e l'ultima arrivata invece sono quelle di Simone Brigida questo è il lato cavallo il lato che nessuno saprà mai e questa era diciamo la penultima versione della pelle la pelle che anche lui aveva chiamato non mi ricordo super finishing ultra finishing ma comunque è una coramella è una pelle da finitura accoppiata a un lato tela ok quindi stavo dicendo il primo passaggio è sicuramente su tela perché ancora ho bisogno di un certo grado di grossonorità di abrasività per togliere bave trusoli e fili morti ci sentiamo per cui anche sulla sulla coramella lato tela possa andare tranquillamente a fare questo lavoro meccanico di pulizia del filo col 7 ottavi per esempio con fila armonica ha già una lama bella importante però è un rasoio abbastanza svelto abbastanza comodo nell'utilizzo si può andare magari dall'entranno un pochino si può andare tranquillamente oh sfatiamo un mito la tela non rovina il filo siamo sempre lì è la mano che rovina il filo quindi non è la tela pericolosa per il filo la tela può essere usata anche tra una rasatura e l'altra per tenere il filo sempre bello vispo cioè ma come tu fai tanto arrivi col filo su una nakayama di livello e poi vai a passare su questa superficie tutta sbruzzolosa sì perché io ci passo con la versione guardate la coramella la sto veramente tenendo eppure non riesco praticamente a piegarla per quanto ci sto andando leggero sopra stessa cosa se sto con la tela io sto più comodo per lame importanti per lame di pesanti come può essere l'ultima ombra ma quel movimento senza cambiare impugnatura ma ruotando tutto il polso lo posso fare tranquillamente anche con lame importanti ci siamo? quindi io in uscita dalle pietre passaggio su tela sempre perché guardate che le bave e i fili morti sono bastardi anche se utilizzate una lentina o come me un microscopio un po' più potente spesso si vede un filo pulito poi andate magari col polpastrello andate a fare la prova del capello vedete che stenta perché la micro bava è micidiale bastano a volte solamente 5 6 passate per lato quindi 10 colpi 15 colpi in tutto su una coramella in tela e quel filo magicamente riprende perché? perché a quel punto avete la sicurezza di averlo pulito per bene ok? dopodiché come vi ho detto prima al pari delle pietre comincio ad utilizzare tipi di pellame via via sempre più fini sempre meno grossolani facciamo una grossa distinzione cuoio cavallo non c'è molta differenza sulla finitura o la grossolanità perché quella poi viene imposta in lavorazione quella la impone il maker per quanto è stata spianata per come è stata fatta per cui non è detto che un cavallo sia sempre più morbido eh scusate sia sempre più liscio una pelle in cavallo sia sempre più liscia rispetto a una pelle in cuoio quella è un diciamo un'impostazione quando si va a lavorare il pellame c'è sicuramente una grossa differenza di elasticità e di morbidezza il cavallo è sempre molto molto elastico e molto morbido il cuoio vaccino invece ha vedete ha una sua rigidità più accentuata questo che cosa comporta comporta attenzione bene perché qui c'è già il primo trucco comporta che sul cuoio ben teso c'è sicuramente minor affondamento del filo sulla coramella si riesce ad avere una coramella più rigida che rimane più tesa per cui al passaggio del filo il filo rimane a galleggiare sulla coramella a galleggiare mi sembra un bel aggettivo mentre con un cavallo anche tenendolo ben teso esercitando una buona pressione una pressione elevata sulla coramella lo vedete è elastico per cui al passaggio del filo il filo tende ad essere abbracciato dalla coramella attenzione allora così tu stai stondando il filo sì il rischio c'è ma lì arriva la bravura l'esperienza la tecnica accumulata perché a noi passatemi il termine ci serve stondare leggermente il filo perché vi ricordate le famose microcresse che compongono il filo noi le abbiamo riaddrizzate e riallineate ma se noi riusciamo a passare leggermente con delicatezza su queste microcresse riusciamo anche a livellarle un minimo attenzione un minimo è chiaro che se ci andiamo troppo brutalmente lo stondiamo proprio il filo noi dobbiamo invece giocare tra lo smusso ma fermarci prima della stondatura ragazzi è difficile è inutile che vi prendo in giro è difficile è tutta una questione di sensibilità che si acquista col tempo prendo un altro rasoio stavolta sacrificale che cosa ci viene in aiuto innanzitutto la distribuzione dei pesi allora io tendo la coramella ci sto mettendo forza però vedete come vi ho detto la coramella tende questo è cavallo quindi tende a flettere molto primo mentre sulla pietra distribuiamo uniformemente il peso adesso il peso lo andiamo a mettere sulla costa cerco di alzare la coramella per farvi vedere guarda sto chiaramente facendolo apposta guardate come si piega la coramella al passaggio si deve piegare sulla costa e non sul filo adesso è chiaro che sto esagerando perché vedete il filo è sollevato viaggio di ritorno stessa cosa se proprio si deve piegare la coramella si deve piegare sulla costa adesso adesso ve lo faccio appoggiando correttamente ma sempre sulla costa ok adesso il filo io lo sto facendo toccare ma la pressione il bilanciamento della pressione è sulla costa è la costa quella che sta piegando la coramella è chiaro che l'ho tenuta un po' meno tesa di quanto avrei dovuto quindi diciamo il cavallo essendo molto flessibile tende ad abbracciare il rasoio e quindi noi che cosa facciamo per evitare di cadere nello stondamento del filo intanto concentriamo il peso c'è ancora la gommi così faccio vedere pure il lato gomma e questo vale per qualsiasi materiale elastico la gommi ha già una sua ha un suo spessore poi essendoci cucito il lato tela la flessibilità della gomma viene leggermente domata ma anche su questo tipo di materiale che è elastico se non è elastica la gomma mi raccomando peso sul dorso ci siamo ok oh e sulla telaio così andiamo avanti di pari passo sulla telaio bisogna regolarsi con la tensione che noi diamo a questa quindi con le regolazioni scusate ho troppi rasoi per le mani quindi con le regolazioni faccio vedere stanno qua dentro lo vedete con le regolazioni che si danno così sto allentando e così invece op così invece sto stringendo quindi devo trovare il giusto grado di flessibilità ricordatevi che a parità di tensione perché una coramella a telaio quando tirate tira tutti e due i materiali nello stesso modo però la pelle rimarrà sempre un po' più elastica del tessuto il tessuto è rigido ok il tessuto diventa tamburo la pelle invece vedete continua a mantenere un suo grado dell'elasticità per cui a secondo dell'obiettivo che ci siamo proposti quello che vogliamo ottenere scoramellata attenzione teniamo ben presente il grado di tensione della cosa detto questo avrò una piccolissima parenza parenza oddio ho detto parentesi allora proprio per tutto questo che vi sto raccontando la strappo la regolo la tensione quindi il grado di elasticità con la mano quindi a seconda del materiale se è cuoio vaccino se è cavallo se è cordovan se è canguro io adeguo con la coramella a telaio posso fare la stessa cosa con le padel stropp no la padel stropp è un pezzo di pelle detta brutalmente attaccato su una tavoletta di legno per cui quel grado di elasticità o minimo lo dà il materiale stesso il tipo di pellame utilizzato poi il costruttore può inserire uno straticello di gomma piuma o di qualche altro materiale all'interno ma comunque io una volta che ho comprato una padel il grado di elasticità è quello e non cambia più quindi poi devo cominciare a giocare allora con le pressioni per fare affondare un po' di più o fa affondare un po' di meno ma se mi capita una padel stropp da quattro soldi rigida con un pezzo di pelle incollato sopra la siccella di pino da bene perché tanto sono quelli che costano di meno sì con una lama importante pesante posso esercitare maggior pressione per cercare di abbracciare leggermente il filo perché vi ripeto un minimo ci fa gioco il troppo stonda ma un minimo ci fa gioco quindi stavo dicendo con un rasoglio importante posso anche permettermi una pressione maggiore ma con una lametta leggera 6 ottavi full hollow molto molata molto elastica immaginate i rasoi quelli di Roman Kamlash sono 10 ottavi full hollow pensate quant'è elastica quella quella lama è lì se vado a fare pressione deformo il filo non è che se deforma la coramella per cui io non sono molto favorevole il principio è i gusti sono gusti c'è chi la compra quindi evidentemente ci sono persone che ci si trovano bene io sto facendo il mio video per me io le traio le compro volentieri le strade le coramella strappo ancora di più perché mi piace proprio la coramella strappo le pad ne leggo proprio è una cosa mia lungi da me capiamoci bene lungi da me dire che non servono a niente così come chi la pad se la fa casalinga ha solo coramelle a strappo ha un rasoio importante non vuole tirare alla morte ha bisogno di una certa rigidezza che cosa fa il trucco del nonno prende la coramella e l'appoggia su un tavolo quindi è riuscito a fare una via di mezzo con una strappo fa una via di mezzo tra una telaia o una pad poi ognuno si ingegna come vuole io però consiglio magari di fare un po' di scuola in più con una strappo a quattro soldi perché così come noi abbiamo i rasoi sacrificali col dollaro a quattro euro se prende la coramella di quelle che non valgono niente da dieci euro su ebay su amazon perché anche lì va presa la manualità così come noi ci alleniamo con i rasoi sacrificali impariamo a conoscere le nostre pietre impariamo pure a conoscere la reazione della lama sulla pelle per cui anche una coramella sacrificale non sarebbe sbagliato averla scusate io me la spippo ok detto questo quindi abbiamo visto per me in uscita dalle pietre è tela poi un pellame che abbia un buon supporto e ancora un certo grado di ruvidezza che come se stessi usando una pietra ancora basso e medio grit poi i materiali ripeto sono tanti c'è per esempio questa la gomma è un materiale di questi nuovi moderni ha un trasporto pauroso qui fare scorrere un rasoio è veramente difficile però ti dà una pulizia una pulizia del filo pressoché assoluta perché ti fa veramente l'effetto gomma da cancellare ve lo ricordate a scuola se uno con la gomma da cancellare premeva troppo fare i buchi sui quaderni era un attimo quindi ha un bel attrito quindi l'azione meccanica di una gomma è importante però ricordatevi che la gomma ha una sua trammatura non è perfettamente non è un piano liscio perfettamente liscio quindi ricordatevi che il rasoio al passaggio sulla gomma tenderà il filo a prendere la stessa trammatura della gomma quindi sarà un filo pulitissimo un filo sicuramente riallineato ma ancora non non perfetto non rettilineo ancora c'è da lavorare sopra o un'altra cosa per esempio continuando con le coramelle di Pietro dove sta dove sta aspettate che non è facile eccolo che c'ho 5, 6, 7 coramelle attaccate allo stesso gancio non è facile farle vedere o questo questa non si può neanche definire coramella vedete è proprio un pezzo di cuoio ma è di una comodità estrema perché vi voglio parlare anche di un altro aspetto della coramella allora questo è quello che Pietro è il tipo di cuoio che Pietro Mirto usa per la serie performance quindi ancora diciamo una coramella intermedia questa per me potrebbe essere il terzo passaggio che faccio ok quindi una tela una gomma un cuoio intermedio ci siamo quindi già andiamo su livelli di di buona ottima finitura con questa ci si fa la barba tranquillamente ottima finitura ma ancora non siamo alla alla dolcezza estrema quindi anche qua cuoio medio trasporto medio dice perché ve la sto facendo vedere intanto perché mi avete chiesto la sequenza e la sequenza completa un passaggio su questa sicuramente lo faccio ma perché voglio spezzare una lancia a favore della mancanza di impugnatura in questo caso proprio non c'è o al massimo un'impugnatura del genere riportata per par condicio tiro fuori quella pure di di Simone aspettate eccola qua quella di Simone è ancora un'altra un'altra interpretazione del manico riportato quindi questa questo è un tipo di manico riportato con una barretta a spianare a tenere steso il pellame questa è diciamo forse un'interpretazione più classica del manico riportato quindi una leggerissima imbottitura solo cucita sulla pelle questa è l'estremizzazione invece del concetto assolutamente nessuna impugnatura ma perché perché è la migliore di tutti perché attenzione guardate una cosa la coramella ma noi siamo sicuri che questo sia un piano potrebbe fare di questo potrebbe col passare del tempo prendendo umidità diventare concava per cui quando noi andiamo ad appoggiare il rasoio adesso non c'è l'inquadratura giusta per farlo vedere ma in realtà potrebbe toccare solamente sul tallone e verso e verso la punta cioè è facile capirlo no? se il cuoio diventa così concavo adesso chiaramente lo reggo con la mano andando a appoggiare il rasoio sopra è chiaro che non prende tutta la superficie quindi la coramella sembra dritta ma in realtà non tocca tutta uniformemente non avere un'impugnatura riportata come per esempio queste di Robert Maleski queste sono impugnature meravigliose belle sono lavori artigianali ma veramente molto molto belli qui il maker ci ha lavorato per realizzare questo però non mi dà nessun controllo sulla planalità della striscia di di pellame invece aspettate mi sposto un attimo anzi sposto proprio la webcam per farvi vedere ma io quando vado a prendere la coramella la posso prendere in mille modi diversi se la prendo al traverso aspettate mi sposto se la prendo in questo modo dov'è eccola qua io con la pressione che esercito con la mano guardate la posso rendere concava quindi posso contrastare la tendenza che ha ad incavarsi con impugnatura del genere ma posso anche fare il contrario se la coramella tende a farmi toccare la lama solamente sul centro io tendo a togliere quel difetto quindi giocando con questa impugnatura ci siamo io riesco a avere il controllo quindi con questa mano con la mia mano nel mio caso sinistra non solo ho il controllo sulla tensione ma ho anche il controllo guardate ho così ho così sulla planarità del piano della coramella quindi io quando posso se conosco l'artigiano se conosco il maker cerco sempre di farmi fare delle strisce di cuoio così che tra l'altro ci risparmiate pure perché l'artigiano è tutto lavoro che risparmia ma mi ci trovo molto molto bene con questo sistema al massimo al massimo ve lo faccio vedere sul lato cashmere di pietro questo è cashmere è cashmere pesante da mi sembra non mi ricordo se 600 800 grammi al metro quadrato quindi è un bel guardate è un bello spessore e anche questa va nella sequenza completa quindi al massimo questa che me le rigidisce un po' però basta non prenderla proprio la posso prendere o il normale o se ho bisogno di un maggior controllo sposto l'impugnatura vedete leggermente più in avanti e anche qui posso fare il giochettino ok quindi io personalmente mi ci trovo molto molto meglio qui qui la planarità niente qui la planarità devo pregare la madonna che queste cuciture siano fatte bene che non tiri la pelle che abbiano dei punti di pressione differenziati e via quindi sto continuando ad andare sempre su coramelle su materiali più fini è chiaro che adesso io ho passato la tela io ho passato la gomma io ho passato un buon cuoio ancora rigido con un buon trasporto che meccanicamente ha fatto il suo lavoro adesso sono arrivato alla lucidatura posso fare una pre lucidatura sull'ana su cashfield ma attenzione non tutti cioè qui bisogna comprare una roba buona perché sul sui tessuti sui filati è facile affondarci dentro quindi bisogna prendere dei filati molto densi bisogna affidarsi il maker ragazzi filati molto densi una ottima pressione perché il rasoio ci deve passare sopra senza senza piegare la coramella io adesso se vi dico dove le ho attaccate le coramelle ce l'ho a una valvolina di spiato di un termosifone qui a un metro da me per cui neanche neanche voglio dire troppo che sennò per far un video faccio i danni quelli fatti a mestiere quindi questo ma qui stiamo parlando veramente del sesso degli angeli delle raffinatezze e arriviamo ai prodotti di punta ovviamente il cavallo di questa coramella di Simone sarebbe da mettere anzi è da mettere in questi giorni lo sto usando tanto la novità la voglio la sto provando per bene diciamo nella stessa posizione del cuoio performance di di Pietro ma forse è leggermente superiore questo tipo di cavallo anzi sicuramente quindi questo a questo punto non lo faccio più ve lo sto solamente facendo vedere perché perché è una bella coramella quindi è piacevole è filpatina è bello ma comunque eravamo arrivati allora se no vi incasino le idee eravamo arrivati al cashmere quindi al filato di lana quindi stiamo andando alla finitura dopo il cashmere che vi ripeto è uno sfezio mio in più arriviamo alle superfici da iper lucidatura quindi per lami pregiati per lami perfettamente lavorati livellati conciati maniacalmente con una superficie liscissima e di conseguenza un trasporto molto 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 basso ok che ha 7 coramelli attaccate da sopra quindi per rasori leggeri ma non cambia molto sui 7 ottavi con buone molature ancora la manualità c'è tutta quanta sto andando piano perché ripeto non sto molto in tensione con la mano eh perché non posso altrimenti l'avrei tirata di più e qui ricordiamoci che sull'ama importanti dove non si può fare quel giochetto io io non ci riasco proprio per cui invece qui è il giro completamente di polso quindi devo alzarmi nella coramella girare e rientrare con la coramella già girata scusate con la lama già girata una macchia quindi non cambia il principio e a questo punto mano leggerissima proprio va solo l'idea adesso in questo momento è quella di lucidare ormai meccanicamente non mi serve più niente meccanicamente quello che dovevo fare ho fatto adesso mi serve la lucidatura del filo per chi ama i fili molto lucidi io per esempio che faccio sempre finiture satinate il passaggio sulla coramella iper ultra lucidante mi limito a pochissime passate perché non è quello che io voglio ottenere dal dal filo e vi ricordo anche qui questo è comunque un ottimo un ottimo cuoio in caso di lame un po' problematiche da girare la coramella a telaio aiuta aiuta sicuramente quindi vedete non devo più stare a controllare la pressione perché la tensione che gli ho dato mi aiuta tantissimo quindi diciamo che questa telaio può essere anzi è sicuramente un'alternativa alla strappo da finitura non serve utilizzarle tutte e due o quella o quell'altra in base al tipo di rasoio che abbiamo appena finito di affidare cioè qui vedete anche il filo armonica che si gira ancora molto bene con le due dita per carità sul lateraio è comodissimo ma abbiamo visto che anche sulla sulla strappo non c'è nessun problema guardate questa è la prima serie delle finishing di Pietro guardate quanto ha lavorato sta coramella attenzione che la coramella è perfetta perché queste sono solamente differenze di colorazione perché ho fatto le manutenzioni c'era scappato il taglietto quindi l'ho carteggiata prima che me lo dite partito dal 400 400 800 1200 2000 su carta quindi la dovevo riportare di nuovo liscia e dopodiché santa pazienza pezza di lana e le mezz'ore sane all'uscitarla per bene per cui al passaggio al tatto la coramella è perfetta ovviamente carteggiandola ho perso la verniciatura ma anche questa è una coramella da trito praticamente zero qui la lama il rasoio il rasoio ci vola sopra sono prodotti artigianali per cui non vi sto a dire che cosa è meglio e che cosa è peggio sono comunque prodotti tutti quanti di di altissimo altissimo veramente livello per cui dove andate 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 bene che andate è come se prendete una coramella in cordovan de miller si le carayama sono famosissime avvicinatevi a cordovan de miller poi poi vedete se non gli lasciate un rene pure là voglio dire il prodotto artigianale c'è sempre il maker che ci mette la faccia per cui partiamo sempre da un livello qualitativo medio alto anche un modello andante di un maker senti senza che mi fai tante cose mi fai una coramella un cuoio di mucca così per tutti i giorni per lavorarci io sono uno che affila tanto mi faccio 20-30 rasoi a settimana ho bisogno di una coramella da battaglia ecco anche la coramella da battaglia fatta del maker il maker non perderà la sua reputazione per darvi un pezzo da quattro soldi comunque le coramelle artigianali io ne sono un grosso un grosso estipatore detto questo non penso ad avervi cioè penso ad avervi rotto le palle per 46 minuti questa per me è la sequenza completa che io faccio in uscita dalle pietre per cui con le coramelle mi comporto sto facendo riassuntino perché la chiudiamo qui c'è solo un'ultima cosa che mi sono scordato di dire quindi io mi regolo né più né meno come se stessi lavorando sulle pietre per cui parto da situazioni di materiali più grossolani più aggressivi come può essere una tela come può essere dove c'è c'è no ah sì nel retro come può essere una gomma per andare poi su un cuoio ah scusatemi un cuoio rigido come può essere questo di Robert Malesky come può essere la serie performance di di Pietro Mirto come può essere perché prima me lo sono scordato il lato cavallo del anzi questo forse già siamo a livello superiore il lato cavallo dell'ultima coramella di Simone quindi tela grossolano tipo gomma un bel cuoio rigido a quel punto ho finito la parte meccanica e lì me ne vado in lucidatura se proprio 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 sto facendo un lavoro di fine mi affido all'effetto lana del cashmere quindi il panno di lana è sempre servito il mondo è mondo per per lucidare i metalli quindi una passata su un tessuto di lana attenzione che qua si possono fare i danni già ve l'ho detto una volta non ve lo ripeto e dopo di che andiamo sulle superfici da ultra finitura guardate benché vissutissima questa non lo so c'era sei anni sette anni è stata la prima che ha fatto figuratele però guardate la lucentezza ancora con tutto che sta nelle mani di un branca zozzone e oppure quest'altra eccezionale che ha appena tirato fuori Simone Brigida oppure in alternativa quest'altro tipo di pellame sulla corapella a telaio se mi serve perché il rasoglio mi dà difficoltà nell'utilizzo con le corapella a strappo detto questo poi non è che tutti i santi giorni finito e passi la barba mi rifaccio tutta la sequenza finito di fare la barba io di solito non uso per riporre questo lato per riporre il rasoio quindi per tenerlo ben asciutto e immediatamente ridare l'azione meccanica di nuovo ridistendere le microcresti e riaddrizzarle guardate che un bevel sono centesimi di millimetro se non millesimi di millimetro il filo per cui basta l'urto con il pelo per deformarlo per disallinearlo per cui un po' di azione meccanica va ridata subito per cui in questi giorni mi sto divertendo con il cavallo di Simone ma vi ripeto potevo fare la stessa cosa con un cuoio performance di Pietro potevo fare la stessa cosa con mucca cuoio vaccino di questo forse è toro di Robert Maleschi dopodiché riposto il rasoio già meccanicamente a posto prima della successiva rasatura a questo punto la lucidadina quindi ho questo tipo di di cuoio molto molto morbido ho questo qui di di Pietro basta ah si è la solida ho quest'altro tipo di di pellame questa è la mia è la mia sequenza l'avete chiesta? ma io se credi non non ne ho adesso chiudiamo proprio che siamo a 51 minuti allora ragazzi una cosa solamente voglio che mi interessa che passi come messaggio non 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 sottovalutiamo l'importanza della coramella io vedo gente che si fa le seghe al cervello ma veramente le seghe al cervello se deve comprare quella pietra o deve comprare quell'altra pietra o quella lì o quella lì poi magari poi magari stiamo parlando di pietre da impostazione perché posso capire le seghe al cervello su pietre da finitura ma sulle pietre da impostazioni quante volte avete sentito prendete un cazzo di sintetica ma quando sei sul meglio gritte ma è meglio la tua scima o meglio la cosa guarda è meglio una 4.000 di merda così che gli fai una bella filatura come Cristo comanda sull'ultima pietra possiamo ragionare se è meglio quella o meglio quell'altra insomma però le stesse persone non le ho mai viste farsi le seghe al cervello sulla coramella quando secondo me e non voglio esagerare ma vogliamo fare il 70% della buona riuscita della della rasatura è la degna conclusione dell'affilatura cioè la scoramellatura potete essere dei mostri sulle pietre ma se poi la scoramellata non viene bene avete perso totalmente tutto il lavoro così come è vero il contrario una discreta affilatura un'affilatura bolina sufficiente per farsi la barba come si suol dire in grazie a Dio può diventare un'ottima affilatura se viene fatto un bel lavoro sulle coramelle quindi mi piacerebbe che se ne parlasse un po' di più cioè più che altro che se ne consigliassero un po' di più tutti pronti a dare consigli sulla pietra tutti pronti a dare consigli sulla molatura e no io per te vedo il fulollo no io per te forse è meglio con la tua barba il near wedge è di qua è di là ma consigli sulle cose secondo me la prima cosa da rispondere è una persona compro questo o compro quello allora io come stai messo con la toramella secondo me la prima risposta dovrebbe essere quella e vi giuro non sto esagerando sarò particolarmente fissato io detto questo era un bel po' che non ci arrivavo a questi livelli mortali 54 minuti e 3 secondi e 4 e 5 detto questo ragazzi mi fermo neanche io mi aspettavo che venisse fuori un video così spero di non avervi così lungo spero di non avervi annoiato più di tanto spero che abbia funzionato tutto perché se no registrarmi un'altra volta povera povera ragazzi grazie di avermi seguito e ci vediamo come al solito alla prossima o ci incontriamo sul gruppo detto questo come al solito ciao popolo alla prossima ciao ciao